Continua la collaborazione culturale tra l'associazione L'Aquila Siamo Noi e la nostra emittente Reteotto con il concerto per la festa della musica 2024 nella chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta. Il concerto andrà in onda su Reteotto domani, domenica 23 giugno alle 21 e replica mercoledì prossimo sempre alle 21. Un omaggio alla musica esaltata e valorizzata attraverso il connubio con la bellezza di una chiesa benedettina dell'undicesimo secolo che si trova a Rosciolo nel comune di Maiano dei Marzi, comune che ha collaborato assieme a quello dell'Aquila. Un programma raffinato e coinvolgente con le aree pucciniane, con Paganini, Chopin, l'astruggente Ave Maria di Guno e Bach, cast artistico di assoluto rilievo con il soprano austroiano Brianna Stilman, il giovane pianista aquilano Michele D'Ascenso e il violinista Fabrizio Casu. Siamo al quinto appuntamento di questo ciclo di concerti nelle abbazie, nelle chiese abruzzesi. Una grande location, permettetemi, la chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta, ci troviamo nella Marsica. Una chiesa benedettina risalente al 1100 e un grande trio artistico, questa volta si esibiranno il soprano australiano Brianna Stilman, il pianista Michele D'Ascenso e il violinista Fabrizio Casu. Un programma che spazia da Puccini nel centenario della morte, a Chopin, a Zvorak, a un grande Paganini, due pezzi strepitosi. La festa della musica forse celebra una delle arti più alte dell'uomo, della produzione che sa comporre e sa fare. Grazie. Grazie. Grazie.